Sabato alle 18 alla libreria Mondadori di Arezzo, la prima presentazione proprio in città del libro Cambia il copione della tua vita della psicoterapeuta Maria Sacca, un titolo suggestivo quantomeno? È un titolo reale, nel senso che il tentativo di questo libro è quello di aiutare proprio le persone a cambiare il copione della loro vita. Cos'è il copione? Sono quelle decisioni che prendiamo nella prima infanzia rispetto a quello che sarà la nostra vita, decisioni spesso perdenti perché fatte da un bambino di 5-6 anni che poi inconsapevolmente ci portiamo indietro per tutta la vita senza riuscire mai a cambiarlo, che ci rendono dei perdenti. Di fatti l'intestazione del mio invito alla presentazione è sei principi o ranocchio, perché quelli che hanno un copione perdente sono ranocchi, quelli che hanno un copione vincente sono principi. Quando voi vi accorgete di fare sempre gli stessi errori, di incontrare sempre le stesse persone sbagliate, di ritrovarvi sempre nelle stesse situazioni fallimentari, quando vi chiedete un po' troppo spesso ma come ho fatto a cascarci ancora, ecco allora lì vuol dire che siete dentro il copione e cominciate forse a vederlo. E lo si può cambiare da soli? È un po' difficile, poi andrei contro i miei interessi, però insomma dei cambiamenti si possono sicuramente apportare per vivere meglio e per stare meglio con noi stessi e con gli altri, sì. Grazie.